aiuto della regia, un articolo della RAI che parlava della precedente edizione del World Economic Forum, insomma Davos, dove ampiamente anche qui abbiamo detto si decide effettivamente l'agenda globale e Soros qui si rivolgeva direttamente ad un presidente del Consiglio Italiano, secondo voi a chi? A Mario Draghi, vediamo che cosa diceva World Economic Forum, Soros scrive a Draghi, UE, l'Unione Europea più forte di Mosca sul gas, cosa ci dice anche questa affinità, questa comunicazione proprio con Mario Draghi che dal 1992 è il soggetto principale delle privatizzazioni eccetera. Nulla di nuovo, nulla di nuovo, Draghi è sempre stato un uomo in orbita proprio di Soros piccatamente, in orbita comunque dei grandi poteri economici, ha lavorato per Goldman Sachs, quindi tutta la sua carriera è sempre stata quella al servizio di questi gruppi e quindi ogni volta che ha occupato posizioni anche in incarichi pubblici, vuoi Banca Italia, vuoi BCE e alla fine al governo italiano l'ha sempre fatto per fare gli interessi di altri, non certi nostri. Draghi, insomma, da direttore del Tesoro salì sul panfilo Britannia e discusse con i grandi gruppi del potere angloamericano quali erano poi gli asset principali dell'Italia che sarebbero stati svenduti nella stagione delle privatizzazioni che demolì tutto ciò che di buono era stato fatto in questo paese, quindi la grande industria pubblica nazionale che aveva trascinato l'Italia nel dopoguerra e portandoci ad essere affino, si dice, alla quarto posto a livello di potenza industriale mondiale, quindi davvero si era fatto un grande lavoro e loro l'hanno smantellato. Qui secondo me ogni volta bisogna sempre ricordare a tutti una visione non complottista della realtà. Non è tanto il fatto del problema Soros in sé che cosa fa, Soros è un privato, quindi con i suoi soldi fa quello che lui ritiene di dover fare e quindi segue una sua idea, una sua visione, che può avere anche magari qualcosa che va oltre il puro guadagno, d'accordo, nessuno lo nega, non so esattamente cosa ha in testa, ma il problema è che questo tipo di posizioni è incompatibile con la democrazia, cioè questi accentramenti di ricchezza nelle mani di pochi sono inammissibili, non importa quanto può essere stato bravo una persona ad arrivare a quel punto, non ci si può arrivare, se ci si arriva non si ha democrazia, cioè quando la nostra Costituzione diceva apertamente e definiva la funzione sociale della proprietà non era stato definito a caso, cioè la proprietà deve essere equamente distribuita il più possibile tra la popolazione, non è il problema l'imprenditore o chi riesce ad acquisire un certo tipo di posizione, il problema è quando diventi troppo grande da riuscire a incidere sull'interesse collettivo e quindi o si mette un limite a tutto questo o il mondo sarà sempre questa roba qua, purtroppo soprattutto oltreoceano ha trionfato l'ideologia liberista che è quella che ti dice no, lo Stato non deve mai intervenire nella disciplina, nel coordinamento e nel controllo dell'economia, ma se non lo fai il mondo diventa come il monopoli, cioè alla fine uno vince e tutti gli altri perdono, ci vorrà molto più tempo che nel gioco da tavola, ma poi fondamentalmente le dinamiche sono queste, tant'è vero che negli anni abbiamo visto che i nomi delle persone poi più influenti e più ricche del mondo sono sempre meno e tutto poi si evolve secondo questa direttrice, poi ciascuno di loro ha le sue peculiarità, i suoi campi di interesse dai virus per quanto riguarda Gates, ha lo spazio per Musk che tutto sommato nel disvalore di quelle posizioni dominanti è quello che comunque ha una visione perlomeno di insieme un pochino più interessante, anche in una logica di prospettiva per la nostra specie se vogliamo, visto che guarda decisamente oltre e ha comunque dimostrato anche recentemente con il controllo di Twitter che è uno che tutto sommato sulla libertà di espressione non ci sputa sopra, perché la prima cosa che ha fatto è riconsentire a tutti di dire la sua su un social che ora effettivamente è l'unico libero in questo momento, però ciò non toglie che comunque sia anche la posizione di Musk è incompatibile con qualsiasi logica di carattere democratica, o capiamo questo, tutto quello che ne consegue, la naturale conseguenza di questo tipo di assetto?